Dottor Valeri, allora l'accordo sulla carta c'è, ma dal 15 come si parte? L'accordo è un gran bel passo avanti sul fronte vaccinale, ma adesso servono i fatti, nel senso che l'organizzazione sul territorio, organizzare centri per la vaccinazione in prossimità, quello è importante, noi qui per esempio abbiamo due punti suggeriti anche da me, della Casa della Salute di Cogli al Metauro e dell'ospedale di Forseombrone, sono due sedi dove noi potremmo andare a vaccinare, però come, quando e perché, quando chiamare, come chiamare, ecco questo bisogna che noi abbiamo una partecipazione, una collaborazione stretta con il distretto, altrimenti da soli non riusciamo a fare niente. Perché la regione non vi ha dato le direttive su come procedere, chi chiamare, quando chiamarlo e come, siete un po' in alto mare su questo? Sì, infatti ancora la situazione è molto nebulosa, voglio dire ci sono delle indicazioni, per esempio che noi abbiamo la possibilità di farlo alle persone fragili, i pazienti fragili, anche perché già i reparti hanno iniziato a chiamare i pazienti che sono loro in carico, tipo Marche Nord, tipo altre della pneumologia ed altro, hanno cominciato a chiamare, quindi noi avremmo tanta gente di pazienti fragili da chiamare, però abbiamo bisogno di organizzazione, abbiamo bisogno di vaccini, abbiamo bisogno di sapere come, quando e perché, lo ripeto, qui è ora di passare ai fatti, le parole ormai sono finite.